Ospite negli studi di Cilento Channel, la professoressa Angela Liguori, socia dei Lions Clubs International, associazione fondata da Melvin Jones a Chicago nel 1917, una delle più grandi organizzazioni umanitarie al mondo a servizio degli altri, con 46.000 club di servizio e 1.400.000 soci. La mission della professoressa Liguori è promuovere il libro parlato Lions, che è stato riconosciuto nel 2005-2006 come service nazionale permanente. Come specialista del libro parlato, l'incarico mi è stato affidato dal governatore del distretto 108 YNA, Paolo Gattola. Il libro parlato Lions è nato perché vuole diffondere presso i ciechi, si rivolge soprattutto ai ciechi e agli ipovedenti, vuole dare la possibilità a chi non vede di leggere, leggere attraverso l'ascolto, attraverso l'ascolto di libri che sono stati registrati da Viva Voce. È completamente gratuito. E poiché le persone desideravano ascoltare, ed erano tante, desideravano leggere attraverso l'ascolto, naturalmente, altri club, quali per esempio quelli di Lions Club di Chiavari, Lions Club di Milano, istituirono anche loro il libro parlato dei Lions. Inizialmente, poiché chi usufruiva del libro parlato, erano diventati tanti proprio, e allora si allargò il campo, e si dette la possibilità anche a quelli che erano in difficoltà motorie, a quelli che, agli ammalati di SLA, agli ammalati di Alzheimer, ma sempre nello stadio iniziale, naturalmente, no? Cioè a tutti quelli che volevano ascoltare un libro, ma non erano nelle condizioni di poterlo fare leggendolo, perché non avevano la vista. La lettura è bella per loro che ascoltano, per noi che leggiamo, in quanto attraverso la lettura noi possiamo, ci sentiamo un po', diciamo, distratti da quello che sono le sofferenze della vita, loro in particolare. Il libro parlato Lions vuole dare a queste persone, a queste categorie, la possibilità di ascoltare i libri, che sono ben 9.000. L'audiobiblioteca è composta da 9.000 libri e a viva voce, chi legge? I lettori sono tutti dei volontari, sono ben 156, ma tutti quanti possiamo iscriverci, possiamo fare la domanda per fare i lettori. Il servizio è rivolto a più soggetti, con il coinvolgimento di biblioteche, istituti scolastici, case di cura, residenze per anziani e strutture ospedaliere, per la divulgazione e per la distribuzione del libro parlato Lions e in base a una specifica convenzione con i gestori del libro parlato Lions, i clubs Lions sponsorizzano ed adottano una di queste strutture indicate, dove si può mettere una postazione del libro parlato. Il funzionamento del servizio è completamente gratuito per gli utenti finali. Il libro parlato Lions non soltanto si rivolge a queste categorie di cui ho già parlato, ma coinvolge anche le strutture. C'è una convenzione tra la biblioteca, se noi vogliamo fare un esempio, un ospedale, una scuola, c'è una convenzione che si stipula tra questi soggetti, queste strutture e il libro parlato Lions con i gestori del libro parlato. Il libro parlato Lions non è altro che la registrazione di un romanzo di poesie, di saggi di letteratura, di opere per ragazzi, di storia ed altro su di un cd in formato mp3 che possono essere ascoltati con un lettore mp3 o sul computer. È possibile inoltre scaricare un'app e utilizzare il libro parlato Lions anche sullo smartphone. Per usufruire del servizio, con l'aiuto di un assistente, è possibile collegarsi al sito del libro parlato Lions all'indirizzo www.libroparlatolions.it oppure, per maggiori dettagli, si può anche chiamare il numero 323 40 23 45 corrispondente alla segreteria di Verbania dalle ore 8 alle ore 13. Noi Lions che siamo abituati, il nostro motto infatti è We Serve, noi siamo al servizio degli altri e lì dove c'è un bisogno ci sono i Lions e ci sono i Lions. Grazie a tutti.